Buongiorno Notizia 9.51 adesso apriamo la pagina sportiva, le notizie di calcio, il giornale di Sicilia parla di Lega Pro e parla del Catania, per il Catania la possibilità di due acquisti nei tempi supplementari, posti liberi grazie alle partenze di Anastasia e Khalil sempre calda la pista Milanovic, meno quella che conduce invece all'Odi. Poi la notizia che abbiamo già avuto modo di commentare, tifosi in lutto, addio a Ciccio Falange, i funerali saranno celebrati nella chiesa di piazza Federico II di Svevia di fronte al Castello Ursino domani alle ore 14.